siete collegati ragazzi buongiorno ragazzi ci siete mi sentite ragazzi ci siamo allora cominciamo ci siete ragazzi mi sentite ma non mi sentite ma non mi sentite ma se sto parlando e mi dici no si vede che mi senti allora ragazzi non perdiamo tempo avanti allora ragazzi mi senti ma siete collegati ci siete non mi vedete la sento ma non la vedo pure io professoressa adesso la vedo però è ferma è frizzata mi vedete adesso sentiamo forse lei io non vi sento non vi allora mutate mutate perché fate casino mutate ragazzi dovete mutare allora ma caluso fai spegnere l'aspirapolvere a tua madre falla spegnere ragazzi prendete il libro eventi narrazione istoria 1 allora spegne mutate ragazzi mutate mutate il microfono mutate ok ci siamo ci siete se ci siete battete un colpo ok ci sono allora vai iniziamo la lezione professoressa posso fare una domanda si giù si dimmi posso andare in bagno vabbè vai in bagno ricominciamo la lezione la prossima andate tutti in bagno tanto la lezione è finita ci vediamo la prossima settimana ok questa è la dad che è la dad che è la conta disembliare adesso si chiede un momento sono soldato l'apbe fullaro l'apbe Grazie a tutti.